Musica Oh ma ti ricordi di quando eravamo piccoli e i giochi erano molto molto più divertenti? Erano molto molto più belli Ma soprattutto ce n'era uno, com'è che si chiamava? Quello che giocavamo sempre Quale? Ma sì, quello lì, dai Quello lì quale? Ci passavamo i pomeriggi Te lo vado a prendere, ok? Musica 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 Nel 1999, a un passo dal suo sessantesimo compleanno, Bugs Bunny arrivò su PlayStation e su PC con un platform distribuito da Infogram e sviluppato da Beavor Interactive Si trattava di Bugs Bunny Lost in Time, il primo di due esperimenti basati sull'universo Looney Tunes che l'azienda francese, detentrice all'epoca della maggioranza delle quote societarie di Atari lanciò sul panorama videoludico sul finire degli anni 90 Bugs Bunny è in viaggio per raggiungere Pismo Beach, la sua tanto annelata meta per le vacanze Il tortuoso percorso attraverso le sue famose gallerie sotterranee però lo conduce a una città non troppo lontana da Albuquerque, dove ritrova una strana macchina Pensando fosse una centrifuga di succo di carota, Bugs decide di metterla in moto ritrovandosi però a bordo di una macchina del tempo, che lo consegna tra le mani di Mago Merlino Dopo un simpatico siparetto fatto di magia e di tranelli, Merlino spiega al coniglio che l'unico modo per tornare al presente è quello di raccogliere tutte le sveglie che gli permetteranno di aprire progressivamente il varco verso la sua meta originaria, ossia Pismo Beach Attraverso cinque diverse epoche storiche, quindi Bugs Bunny è chiamato a raccogliere sia le sveglie che le carote d'oro, utili per aprire dei livelli bonus in ogni epoca storica Ogni livello, come in tutti i platform, era pieno di ostacoli da superare e anfratti da scoprire oltre che enigmi da risolvere L'interazione con lo scenario era ridotta ai minimi termini, ma comunque presente con la possibilità di raccogliere oggetti, calciarli e anche impilarli per raggiungere altezze altrimenti inarrivabili Chiaramente l'irriverenza del titolo e dei suoi protagonisti ebbe la meglio sulle meccaniche molto poco fluide e farraginose Ogni epoca storica, infatti, era ricollegata a uno storico nemico di Bugs, a partire dall'età della pietra dove saremmo chiamati ad affrontare il cacciatore Elmer Taddeo e i suoi compagni di caccia all'interno di uno scavo paleontologico Proseguendo nell'avventura si arriva fino al Medioevo con la strega Hazel e Duffy Duck oppure all'età dei pirati, dove l'avversario è chiaramente Yosemite Sam Bugs Bunny Lost in Time era un quacervo di riferimenti ai cortometraggi Warner partendo da Incubi da Coniglio, che ispirò l'incontro con Merlino e l'intero leitmotiv della vicenda fino al Coniglio Bucaniere, che vedeva Bugs impegnato nell'epoca dei pirati Per Bugs Bunny Lost in Time il successo non fu altissimo, complice a un uso sconsiderato della telecamera un approccio troppo legnoso al combat system, relegato a semplici calci nel sedere agli avversari e una non altissima varietà nelle location Nonostante ciò, però, Infogram ci riprovò un anno dopo esatto, con un sequel indiretto Bugs Bunny e Taz Timebusters, che ripartiva dalle stesse meccaniche di viaggio ma con un plot diverso, basato su un errore compiuto da Duffy Duck Con un hub di gioco di partenza, come Spyro the Dragon il titolo permetteva in qualsiasi momento di cambiare personaggio giocabile così da sfruttare le abilità sia di Bugs che di Taz Con il supporto di un buon doppiaggio che vedeva Massimo Giuliani a prestare la voce a Bugs Bunny così come nella serie animata e con l'irriverenza propria dei Looney Tunes Bugs Bunny Lost in Time non conquistò la critica, ma resta un prodotto che negli anni ha saputo ritagliarsi quell'angolino di cuore di tutti i videogiocatori degli anni 90 che sgranocchiando una carota hanno sempre voluto chiedere Che succede, amico?